Giornate febbrilli per la politica barlettana, soprattutto in vista delle elezioni comunali, al punto di aver messo in sordina anche le politiche che si celebreranno due mesi prima. A dare un'accelerazione il centro-sinistra, che ha deciso di scegliere il proprio candidato sindaco attraverso primarie da celebrarsi l'11 febbraio, cioè prima del voto per le politiche. Come ampiamente riferito da giorni, le candidature dovranno essere presentate entro sabato. Mancano quindi tre giorni, ma manca soprattutto la candidatura ufficiale del PD, che ha convocato il direttivo che dovrà deciderla per venerdì. Sarà quindi una decisione in extremis e sulla quale non mancheranno le polemiche. Al momento l'unico ad essersi proposto è l'avvocato Giuseppe Bufo, ma le sue chance, considerando che il PD esprimerà un'unica candidatura, appaiono piuttosto modeste. Tutti infatti attendono l'indicazione dell'assessore regionale Caraccio, lo indeciso tra il presidente della Barsa Luigi Froscio, il segretario del partito Nicola De Fazio, e il presidente dell'Ordine dei Medici Dino Del Vecchio. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Enzo Del Vecchio, sponsorizzato da Ambienti Baresi, ma l'interessato, sia pur con lingua pentaforcuta, ha smentito. A onor del vero, di lingue pluriforcute, soprattutto in questi giorni, se ne apprezzano a Iosa, con tatticismi furbate, spesso infantili, portate allo stremo in un clima stucchevole che sta infastidendo non poco l'opinione pubblica. Sabato, salvo clamorosi colpi di scena, tutto sarà finalmente definito. Si saprà chi del PD sfiderà il dottor Cannito dei Socialisti, è l'avvocato la notte di area popolare da tempo in campo, e si potrà finalmente parlare di contenuti sciogliendo alcuni nodi non secondari. Il primo è dichiarare con chiarezza cosa ci sarà di continuità e cosa di discontinuità rispetto all'amministrazione uscente ed un giudizio chiaro su ciò che è stato fatto. Balza infatti subito agli occhi che questa elefantiaca coalizione, talmente allargata a destra che non ci stupiremmo se dovesse chiedere l'adesione anche a Casa Pound, contiene al suo interno forze politiche e consiglieri uscenti che hanno combattuto l'amministrazione Cascella per cinque anni. Erano all'opposizione le due liste provenienti dal centro-destra, quella di Alfarane di Corato e quella di Lo Sappia della Piazzolla, con il paradosso che qualora Nino Marmo dovesse candidarsi capolista al Senato con elezione certa, la neocompagna Piazzolla gli subentrerebbe in consiglio regionale perché prima dei non eletti della lista di Forza Italia. All'opposizione sono stati tre consiglieri del Partito Socialista, ma anche Gennaro Calabrese, che oggi rappresenta la lista civica Progetto Barletta, così come Mazzarisi, che dovrebbe approdare ad una delle liste ispirate da Emiliano, presumibilmente quella di Tuputi, proveniente anche egli dal centro-destra. A questi vanno aggiunti i guerriglieri, quelli che hanno boicottato quasi tutte le sedute del Consiglio Comunale, provocando i continui scioglimenti per mancanza del numero legale, con assenze pilotate, rifiutandosi di votare debiti fuori bilancio che magari loro stesso avevano contribuito a creare, e scorrettezze di ogni genere. E allora, tutto passato in cavalleria, nessuna autocritica, imbarchiamo tutti, purché portino voti? Il problema, l'unico problema, si chiama Pasquale Cascella? Lo si dica chiaramente. Oppure si analizzino fatti e personaggi che hanno fatto di tutto per bloccare l'azione amministrativa, al di là dei limiti del Sindaco. Le forze politiche che hanno espresse ed esprimono ancora assessori non hanno nulla da dire, nulla da rivendicare sulle cose fatte e su quelle non fatte proprio a causa dell'ostracismo dei loro nuovi compagni di coalizione. Ci fermiamo qui. Sappiamo che sono discorsi che interessano poco, sono considerati demagogia all'epoca in cui vale tutto e risultano noiosi, lontani dal pragmatismo della politica becera che stiamo vivendo. Parlare di etica in questa fase significa semplicemente farsi ridere in faccia.